Vide etarista Megastore, avvigliamento, accessori e calzature, presenta un'imperdibile offerta. Solo per questo periodo, sconte al 50% su tutta la linea primavera-estate di Elena Mironi. I sogni miei, miei, con le mani io riprenderei, perché sono umani questi sogni miei. Approfitta subito della promozione. Vide etarista ti aspetta a Polla in via chiuse.